Sabato 24 febbraio, bentrovati con l'edicola di TRM H24, lo spazio che dedichiamo alla lettura dei quotidiani che trovate in edicola. Incominciamo come sempre dalle testate nazionali, vediamo a cosa dedicano l'apertura. Il Corriere della Sera, in primo piano la politica, Mattarella, richiamo ai partiti, cariche ai cortei pro-Palestina e Firenze e Pisa, Schlein basta manganellate, il Colle difende Meloni, violenza e volgarità falsano il confronto, il sondaggio giù fratelli d'Italia e PD, testa Lega, Forza Italia. La fotonotizia invece è un'intervista a Chiara Ferragni, sono imperfetta anch'io ma ora basta fake news, polemiche e famiglia, Chiara Ferragni si racconta. Vediamo ancora altri titoli, Europa e USA, nuove sanzioni contro la Russia, Navalny la sfida della madre, voglio i funerali e ancora la diplomazia impotente, il gioco di Cina e India. Ma vediamo ancora altre notizie, la procura militare, Vannacci finisce sotto inchiesta, peculato e truffa nei mesi a Mosca. E Forza Italia, Tagliani, congresso senza Berlusconi, lui era Maradona. Prima pagina della Repubblica Nazionale, in primo piano gli scontri a Firenze e Pisa. Manganelli facili, cariche della polizia contro gli studenti alle manifestazioni non autorizzate, pro Palestina decine i feriti. Il sindaco pisano, amareggiato come cittadino e genitore, Schlein e Conte, clima di repressione. Terzo mandato, rabbia dei governatori, Zaia teme una trappola di Salvini. E ancora, vediamo invece l'inserto 2022-2024, due anni di guerra in Ucraina. Un inserto di Maurizio Molinari, Gianluca Di Feo, Paolo Brera, Fabio Tonacci e Paolo Garimberti. Vediamo sempre in prima pagina altre notizie. L'intervista, il ministro Schillaci stupisce l'addio di Palù dall'AIFA e poi ancora l'analisi, l'emergenza dimenticata della sanità. Dagli esteri, Mappamondi, vertice G7, Meloni da Zeleschi e Macron irritato, non va al summit. E poi ancora a Markel, studiamo come confiscare i fondi russi, ricatto su Navalny, funerali segreti o tomba nel Gulag. Gazzetta del Mezzogiorno, leggiamo subito insieme le notizie in prima pagina. Le primarie di Bari, nel centro-sinistra il Sidi La Forgia, le consultazioni con l'eccese per il candidato sindaco, bagar terzo mandato ai governatori. Le amministrative, apertura anche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Emiliano V del 2025, sono pronto a ricandidarmi. E poi la cronaca appalti in cambio di voti, rinviato a giudizio il capogruppo del PD Caracciolo, Barletta, pressioni sugli uffici comunali. La fotonotizia intervista a Parla Gozzi, lo Stato decarbonizzi, si parla dell'ex Ilva, un'operazione verità per il rilancio dell'Ilva. Martedì il ministro Urso andrà a Taranto. Ancora la cronaca, operaio morto in fabbrica, condannati a sette anni gli imprenditori Scarlino, omicidio colposo, i legali hanno affermato non ci fu dolo. Dalle province vediamo subito i titoli. Da Bari a Monaco, sette arresti per un maxitraffico di Rolex, ad Andria e battaglia l'usura e a racket con lo sportello Fai, scacco alla mafia di Martano, inflitte condanne per 130 anni. E ancora una notizia di calcio. Il Bari oggi con il Sud Tirol in campo per sfatare un tabù. Domani arriva l'Inter, il Lecce deve crederci. E ora il Corriere del Mezzogiorno locale. Vediamo subito le notizie in prima pagina. Subito le elezioni a Bari. Scontro sulle regole delle primarie. La forgia accetta di correre ma pone condizioni leccese. Non ci sono ragioni per modificarle. Martedì il tavolo di coalizione. Petruzzelli chiede al PD di convocare l'Assemblea. Il Movimento 5 Stelle lascia libertà di scelta. Una fotonotizia, una storia. La coppia che ha lasciato il talento e ha fondato WeAfrica to read Hurt. L'idraulico che cerca l'acqua. Io in missione con Giulia per dissetare il Burkina Faso. Iniziamo subito a sfogliare il Corriere. Vediamo che in primo piano ci sono appunto le primarie. Primarie ma con regole certe. La svolta di la forgia scuote il PD. Leccese. Non ci sono ragioni per cambiarle. E l'avvocato teme il doppio voto fraudolento. In Regione. Vediamo l'articolo invece di taglio basso. Emiliano non molla. Il mio futuro è qui. Pronto a ripresentarmi per la terza volta. Sulla corsa a sindaco. Applaude all'unità ritrovata. Articolo invece di spalla. Gli schieramenti. Leggiamo subito insieme. Idem e De Caro con il mena. Gervendola sostiene il penalista. E Conte lascia liberi gli iscritti. I civici vicini al governatore invece non hanno ancora sciolto la riserva. Andiamo avanti. Sfogliamo e troviamo la cronaca. Persi 150 mila abitanti in dieci anni. In Puglia più anziani che bambini. I dati diffusi da Union Camere. L'esperta di demografia. Nessun esodo di massa. E poi ancora Network Contacts. C'è il via libera all'accordo di programma. Salvi 280 posti. Batterio killer a Trigiano. Xilella. La CIA sui mandorle infetti e abbatterli in pericolo le vite. E poi ancora stritolato. Sempre cronaca. Stritolato nel salumificio Scarlino. Sette e quattro anni ai re dei vius. L'orribile morte di un operaio a Taurisano. Condannati i due fratelli Attilio e Antonio. Sfogliamo e ancora vediamo invece il sit-in per Patrizia. Il padre. Smuoviamo le coscienze. il 3 marzo a Fasano. Fiaccolata. Per ricordare la giornalista. Trovata cadavere. A casa sua otto mesi fa. Sfogliamo il Corriere del Mezzogiorno. Invece vediamo la notizia di calcio. Il Bari alla ricerca del Tris. Vincere con il Sud Tirol per il sogno dei play-off. Partita Spartiacque. Iacchini si affida al Tridente. Sibilli, Puskas e Menez. E ancora. Adesso la Repubblica Bari. Quindi l'edizione locale della Repubblica. Anche qui in primo piano la politica. Primarie, le cese e la forgia. Adesso si tratta sulle regole. Il penalista accetta la proposta del PD di consultazioni pubbliche. E c'è già un primo contatto tra i due papabili. Parlano Taruffi e fratto gli anni la battaglia locale e lo sfondo di quella nazionale. Sfogliamo. Come abbiamo detto in primo piano appunto la politica. Ucchia le primarie, le cese e la forgia per il campo largo. E ora le regole. Il penalista ha detto sia i DEM sulla consultazione pubblica. Via libera anche da Conte la trattativa sulle modalità. Il caso Petruzzelli. Sfogliamo. Vediamo ancora appalti pilotati di una scuola. Caracciolo e Lupelli imputati. Il capogruppo DEM in regione e l'ex direttore di Arcapulia rispondono di turbativa d'asse e corruzione in concorso. Coinvolto anche il presidente della Commissione. E poi vediamo l'articolo invece di Spalla. Un'intervista a Mauro Zaratta. Lollo morto a cinque anni per i veneni dell'Ilva. I drammi delle famiglie e danni collaterali. Quindi si parla appunto di una storia legata all'ex Ilva. E poi vediamo il dossier. Più imprese e occupati ma per il commercio. Il 2023 da dimenticare. Pubblicati i dati di Union Camere e Puglia sull'andamento dell'economia. Bene, turismo e costruzioni. Logistica in sofferenza nel post pandemia. Articolo di Spalla. Stanze in divenire. Quindi il racconto fra Dylan e la Subway. Smonto e rimonto qui. E tutto un riscrivere. Appunto un racconto e un'intervista. Vediamo subito. Nella casa di Il Contrasto per Eccellenza. Vediamo un articolo di Antonella Gaeta. A casa di Chica Maralfi. E ora invece vediamo l'edicola del Sud. Leggiamo subito le principali notizie. Anche qui si apre con la politica. Primario Unitarie. Ci sarà il candidato unico. E poi ancora Regioni e terzo mandato. Emiliano, se serve, sono pronto. La cronaca. Le indagini partite da un grosso furto in abitazione. Sgominata la banda dei Rolex. Gli arresti ricettavano gli orologi in tutta Italia. Scovati da un ufficiale derubato. Vediamo subito le notizie locali. A Bari per la scuola Anna Frank c'è un futuro. Da Trani ferita davanti alla discoteca. Quattro arresti. E poi invece andiamo a Foggia. Scoperto Automarket illegale. E a San Nicola di Melfi a rischio. 103 lavoratori stellantis. Vediamo le notizie dalle altre province. Da Lecce. Pagliaro sfida l'ASL. Non pagate. Poi ancora da Brindisi. Pazienti gravi dal Perrino portati a Bari. Leggiamo una notizia da Taranto. Melucci perde pezzi in provincia. E sempre nel Tarantino. Si parla di PNR. Al rischio gli infermieri sono pochi. Anche qui la notizia di Filippo Caracciolo. Capogruppo PD a processo per corruzione. Union Cameri Puglia. Saldo positivo per l'economia nel 2023. E il focolaio della Xilella. Da lunedì gli ispettori a Treggiano. Ma vediamo anche una foto notizia. Su uno schianto sulla Statale Cento. Tre anni al guidatore. Andava 140 all'ora sul bagnato. Il verdetto militare del Qatar. Patteggia per l'incidente in cui morirono tre persone. E ora vediamo i titoli sul quotidiano di Bari. Svolta nel centro-sinistra. La forgia apre alle primarie verso un candidato unitario. Chiesto un confronto sui programmi. Con l'altro candidato, Vito Leccese. E poi ancora a Stea. Le sentenze del Tar non bloccano le assunzioni in regione. Residenze anziani. I soliti problemi tra burocrazia e indifferenze. E poi lo sport. E la squadra di Iachini proverà a sbancare il druso di Bolzano. In chiusura della nostra rassegna. Vediamo invece i titoli sul sole 24 ore. BTP valore rendimento a 3,77%. I big dei microchip di Taiwan spostano i siti nel distretto in Giappone. E poi ancora l'ollo brigida più sossegni al reddito dei coltivatori. Ma vediamo ancora delle notizie dagli esteri. Dai USA le sanzioni più forti contro la Russia. Putin deve pagare. La guerra sarà ancora lunga. Prima del 2026 non vedremo cambiamenti. E poi ancora per la banca centrale di Kiev. Priorità alla difesa del cambio. E queste erano le principali notizie che trovate sui quotidiani. Grazie per averci seguito. Rimanete sintonizzati su TRM Network. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.